Il piccolo polo scolastico dove ci sono il liceo classico, il liceo pedagogico e vediamo i ragazzi in strada, ci sono anche delle scuole medie tra l'altro nelle vicinanze, vediamo in strada i ragazzi, i bambini con gli insegnanti, un traffico abbastanza intenso perché ovviamente dopo il sisma è stata data la direttiva da parte del comune seguendo le procedure standard antisismiche di evacuare le zone. Tre persone, no allora praticamente abbiamo sentito, ragazzi commentate, no ma che dici abbiamo sentito fortissimo il terremoto, si è sentito fortissimo e questa è la situazione. E' non soltanto una grande preoccupazione ma un grande rammarico perché questi nostri concittadini di queste zone sono sottoposti a una continua ripetizione di tensioni, di stress naturalmente questo rende ancora più impegnativa l'opera di assistenza, di continuità delle attività economiche, di avvio della ricostruzione, ma magari questo si farà ugualmente, mi auguro che non vi siano vittime, naturalmente ogni scossa aggrava le condizioni dei nostri concittadini di questi paesi, di questi comuni, di queste frazioni, ma aumenta anche a determinazione a star loro vicini ad aiutarli. L'incontro di oggi avviene in una giornata di nuovo complicata per il nostro paese, quindi io voglio cominciare con un pensiero rivolto che abbiamo condiviso con Angela alle popolazioni nelle aree colpite da scosse di terremoto molto serie questa mattina. Per fortuna al momento non risultano vittime, ma certamente il susseguirsi di scosse di questa entità è un fattore di allarme per le popolazioni già pesantemente colpite ed è un fattore che impegna il Governo. Io ho sentito ripetutamente la protezione civile, il Ministro della Difesa, abbiamo disposto un rafforzamento dell'invio dell'esercito nelle zone colpite dal terremoto. Stiamo monitorando minuto per minuto la situazione. Per prima cosa intendiamo esprimere vicinanza alle popolazioni che sono state nuovamente funestate da questo sisma. Dobbiamo però rassicurare su quello che stiamo facendo a Roma. Abbiamo allertato tutte le pattuglie della Polizia Locale che sono sul territorio per controllare qualunque tipo di necessità e qualunque tipo di danno che al momento non è stato rilevato. Abbiamo convocato immediatamente una riunione della Centrale Operativa Comunale, una riunione d'emergenza nella quale parteciperanno la Polizia Locale, la Protezione Civile e Amata che Acea. All'esito di questa riunione sapremo dirvi di più. Al momento quello che possiamo dire è che d'intesa con la Prefettura che ha sentito la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco non ci sono motivi di allarme in città. Per questa ragione non abbiamo emesso alcuna ordinanza di chiusura delle scuole. Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno in via precauzionale chiudere la metropolitana e aprire i varchi ZTL per favorire comunque la circolazione dei mezzi. Saranno avviate nelle prossime ore le verifiche speditive sugli edifici scolastici e sugli edifici pubblici per verificare che comunque l'impatto di questo sisma che pure ha colpito il Centro Italia non abbia determinato danni a carico delle nostre strutture.